E siamo arrivati al giorno di Dante, il Dante D, ovvero il giorno di Dante per ricordare la sua straordinaria figura il 25 di marzo e noi siamo qui insieme con chi di Dante ha molto da raccontarci attraverso il suo libro e non solo, l'Italia di Dante, il viaggio nel paese della commedia pubblicato dalla nave di Teseo. L'autore è insieme con noi qui nel Posto delle Parole. Buonasera Giulio Ferroni. Buonasera, buonasera. E grazie, grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per incominciare insieme con lei un viaggio. Che cos'è la Divina Commedia se non un viaggio? Ma lei intraprende un viaggio, Giulio Ferroni, un viaggio anche geografico ed è un viaggio molto importante per farci respirare l'aria dei luoghi dantesti. Ricordo che Giulio Ferroni è professore emerito della Sapienza di Roma, autore di studi sulle più diverse zone della letteratura italiana, la Dante fino a Tabucchi e dell'ampio manuale Storia della letteratura italiana. Numerosi i suoi studi sulla letteratura del Cinquecento, tra cui Mutazione, Riscontro nel teatro dei Machiavelli e poi abbiamo su questioni di altri libri, su questioni di teoria, il comico nelle teorie contemporanee, fino ad arrivare alla letteratura della serie Treccani, il contributo italiano alla storia del pensiero e in mezzo a questo tantissimi altri, tantissimi altri studi. Giulio Ferroni, com'è cominciato per lei, cominciamo subito da una cosa molto personale, com'è cominciato per lei l'innamoramento della parola dantesca? Ma è molto, è cominciato, è difficile dire quando, nel tempo così, ma mi ricordo che dal tempo della scuola media, quando sentì così, fui invitato dalla professoressa a leggere un canto, il terzo canto dell'inferno e poi i sonetti per Beatrice, insomma c'era il fascino di una parola che veniva da lontano, che era da un universo che non aveva più nulla a che fare in fondo in apparenza con quello che avessi davanti, però che aveva una forza tale, questa lingua, ma che catturava proprio la volontà di sapere, di conoscere, insomma, quindi non vedevo l'ora di arrivare a leggere poi tutto il poema, insomma, ecco, dopo aver fatto questi assaggi, diciamo, quasi preadolescenziali direi addirittura, ecco, era un richiamo dato proprio, qui siamo al posto delle parole, dato proprio dalla forza della parola, insomma, da quella lingua che era lontana e vicina nello stesso tempo, la lingua che è ancora la nostra da tanti punti di vista, ma che ci viene incontro con una tale corposità, con una tale intensità inventiva che fa vedere, insomma, che c'è dietro la voce di uno che è una persona troppo strana, troppo assoluta, troppo inconcepibile, in fondo, ecco, forse è nato così l'interesse per la commedia, e poi, poi, l'interesse per tutta la literatura è venuto di conseguenza. Ecco, diceva poco fa Giulio Ferroni la parola che arrivava da un universo lontano, ecco, arrivava da un universo lontano, sì, ma era impregnata del presente e dell'antico e del futuro, come ogni parola che è presente nella divina commedia, e lei adesso di questa parola, del passato, del presente e del futuro, ne ha dato traccia, una traccia geografica, ma non solo, con il libro L'Italia di Dante. Da che cosa nasce questa idea di mettersi in viaggio sulla parola di Dante? Ma è un'idea che a un certo punto mi è venuta anche considerando la forza della geografia dantesca, non solo della geografia interna al poema, cioè il disegno dei tre regni dell'oltretomba, l'invenzione che Dante fa della struttura dell'inferno, del purgatorio, il paradiso è un'altra questione perché c'è un elemento cosmologico che corrisponde proprio all'idea del cosmo che Dante aveva, ma per quanto riguarda l'inferno e il purgatorio, lui si è inventato proprio tutta la struttura, una struttura veramente geografica, intensissima, chiarissima, un mondo immaginario che però va all'evidenza di un mondo reale, però oltre questa geografia interna c'è la geografia reale dell'Italia del tempo che si affaccia sempre tra le pieghe della descrizione di quella geografia immaginaria, di quella geografia fittizia e noi vediamo l'Italia del tempo che è ancora l'Italia di oggi, la vediamo, la riconosciamo a volte attraverso un semplice nome proprio, a Dante basta nominare con un nome proprio un luogo per farcelo allenare davanti, vassi in San Leo e discendesi in Noli, per esempio chi conosce San Leo, questa rocca strana che sta abbarbicata su di un colle, in fondo lo vede, questo vedersi delle cose attraverso l'evidenza della parola, l'evidenza del nome proprio e poi però anche la descrizione di certi luoghi, di certi ambienti, è come un pittore a cui bastano due o tre pennellate per farci vedere tutto, allora la coscienza di questo, la suggestione di questo mi ha fatto venire il desiderio, ma perché non andare in tutti i luoghi che Dante poi nomina così, con questa forte evidenza, andiamo a vederli direttamente, alcuni sono luoghi notissimi che io già conosco, ci sono stati tante volte, ci sono stati, altri sono l'opposto che non avrei mai visto se non fossi stato guidato dalla parola di Dante, allora mi è venuta, sarà una quindicina d'anni fa, forse un po' più l'idea di quello sarebbe bello fare questo viaggio, poi insomma il tempo passava, gli impegni accademici insomma impedivano di avere troppi giorni liberi per fare una cosa del genere, poi una volta andato in pensione ho incontrato poi l'interesse della società Dante Alighieri a cui ho proposto questa iniziativa e quindi mi sono messo in cammino. Si è messo in cammino per fare lo stesso cammino in sostanza di Dante, il cammino della parola che ci fa vedere i luoghi, lei diceva poco fa, faceva riferimento a San Leo, la parola che ha questa potenza espressiva, la potenza espressiva di farci vedere anche attraverso l'Italia di Dante, edito dalla nave di Teseo, le parole di Giulio Ferroni insieme con quelle di Dante, sono parole che rappresentano, mi scusi la semplicità del concetto, una guida italiana, ma le guide possono avere diversi livelli, diversi registri, ecco questo è un registro di letteratura e di letteratura geografica. Sì, infatti questo tra l'altro io ho avuto sempre una nozione fortissima, una convinzione che la letteratura è anche geografia, è anche delimitazione dello spazio, è sempre incardinata nei luoghi tutta la grande letteratura e naturalmente Dante lo è in modo assoluto, allora rifare questo viaggio è significato interrogare non soltanto i luoghi danteschi in quanto attraversati da Dante o ai tempi di Dante, perché non sono stato solo nei luoghi in cui sicuramente Dante è passato, ma anche i luoghi dove lui sicuramente non è mai andato, ma che conosceva dal punto di vista così geografico e per sentito dire, erano dati della cultura del tempo comunque, per esempio in Sicilia non c'è stato mai, però poi la nomina, la nomina in modo molto interessante e quindi sono andato anche in Sicilia, però tutto questo andare mi ha portato a vedere l'Italia di Dante, ma tutto quello che è passato poi dopo, che ha portato da Dante fino a oggi, quindi la letteratura, i segni letterari, le forme artistiche e anche le cose orribili, le guerre, le lacerazioni, i crolli, ecco tutto, credo che attraversare il nostro paese e speriamo di poterlo fare di nuovo molto presto, ahimè siamo in un momento incredibile da questo punto di vista, perché ci troviamo bloccati senza percorrere, senza camminare nel nostro paese, anche se il camminare ormai è un camminare tecnologico, però è rapido, veloce, molto diverso da quello dei tempi di Dante, però è importante girare, vedere, toccare, in ogni movimento c'è sempre la traccia di tutta la cultura che è passata da allora a oggi, ecco c'è questa densità dell'Italia che mi è parso di riconoscere così attraverso tutte le apparenze, i volti a cui mi avvicinavo nel viaggio, quindi è stato, non è soltanto una guida dantesca, ma è un modo di vedere attraverso Dante l'Italia di oggi, l'Italia che io ho conosciuto, l'Italia che è stata quella della mia generazione, in fondo è anche un atto d'amore per questa Italia poi. Più di mille pagine, più di mille pagine ha questo libro, l'Italia di Dante e di Giulio Ferroni, però Giulio Ferroni, qual era l'idea dantesca dell'Italia? Che Italia aveva in mente Dante Alighieri? Naturalmente è chiaro che ai suoi tempi non c'era il concetto di nazione che poi si è sviluppato dopo e poi per esempio nel Risorgimento Dante è stato preso come vessillo, proprio bandiera di questa italianità, naturalmente Dante non concepiva l'Italia proprio come una nazione in senso moderno, ma la concepiva come una unità prima di tutto culturale e storica, perché veniva dall'Italia dei Romani, i Romani sono stati quelli che hanno identificato l'Italia, l'hanno unificata naturalmente con la loro violenza, cancellando altri popoli, altri orizzonti, però hanno creato questa unità della penisola, Dante questo lo sentiva forte, questo ritorno alla continuità con la Roma antica, però poi c'era un'unità culturale e un'unità linguistica poi in fondo, tante lingue, tanti dialetti, li chiamiamo noi, diversi parlati nelle diverse regioni d'Italia, però lui scopriva che c'era una unità in questi dialetti che formavano comunque la lingua del sì e allora è stato uno che da questo punto di vista l'ha fondata lui l'Italia linguisticamente, ha scoperto una unità tra tante lingue fraterne tra loro che erano una variante moderna del latino antico e ha sentito che erano un elemento un'unità, a questo ha collegato l'esigenza di vedere l'orizzonte culturale che c'era poi nel presente, anche nei comportamenti dei cittadini delle diverse città, delle diverse regioni, anche nella loro faziosità, nella loro aggressività politica ai tempi delle guerre tra Guelfi e Ghibellini eccetera, soprattutto un orizzonte lacerato che però richiedeva la giustizia, il superamento di questa lacerazione in quello che lui chiama il giardin dell'impero, il bel paese là dove si suona, quindi un'identificazione unitaria c'era anche se non era nazione nel senso contemporaneo del termine. E lei comincia questo viaggio attraverso le parole della Divina Commedia, questo viaggio geografico da Napoli, la prima tappa, perché questa scelta? Ecco Napoli perché c'è la tomba di Virgilio, ho pensato, è un'idea che mi è venuta lì per lì prima di fare proprio tutto il piano del viaggio, dico perché non cominciare proprio da Napoli, una città che amo particolarmente e perché non cominciare da Napoli, perché a Napoli c'è la tomba di Virgilio e Virgilio come sapete bene è la guida di Dante, che gli appare proprio all'inizio del primo canto dell'inferno per sottrarlo ai pericoli in cui è preso, ha salito dalle belve e lo porta nel viaggio dell'oltretomba e allora perché non andare a Napoli alla tomba di Virgilio, poi in quel parco dove insieme ai resti di quella che è stata la tomba di Virgilio, che non c'è più veramente, ma perché non è stata ritrovata, c'è però la tomba vera e propria di un grande poeta italiano che è bello collegare un po' sia a Dante che a Virgilio, cioè Leopardi, stanno lì tutte e due, Virgilio idealmente perché non è stato ritrovato il suo sepolcro, però stava lì sicuramente anticamente e poi Leopardi dove è stato invece sistemato il sepolcro moderno solo nel Novecento, tra l'altro è stato messo lì e allora una serie di suggestioni poetiche che mi hanno portato a interrogare questi grandi poeti mettendoli tutti insieme. Tra l'altro poi mi sono accorto visitando quella zona di Piedicrotta, che poi è la zona di Piedicrotta vicino proprio al ridosso della stazione di Napoli, Mergellina, mi sono accorto, non ci avevo pensato prima, le cose si scoprono durante il viaggio, che lì vicino c'è una chiesa proprio a Mergellina, Santa Maria del Parto, che è stata fatta costruire da un altro poeta, un poeta napoletano, San Nazaro del Quattrocento, che era un grande cultore di Virgilio e che stava scrivendo, mentre fa costruire questa chiesa e la lascia come sua eredità, sta costruendo un poema proprio sul parto della Vergine, De Parto Virginis, quindi credo che sia l'unico caso in tutta la storia del mondo di uno che scrive un poema e nello stesso tempo fa costruire una chiesa sullo stesso argomento del poema, una cosa incredibile, ecco una combinazione a cui non avevo pensato, non so se ha mai pensato qualcun altro, ma l'ho scoperta, l'ho sentita facendo il viaggio, questo per mostrare come tante cose non erano programmate in partenza, ma si sono scoperte, sentite, spiegate viaggiando. E questo è il bello del viaggio, viaggiare culturalmente, non andare a vedere quello che già si sa, certo è importante, che già è noto, non andare solo a fare la fotografia come purtroppo si fa adesso, ma si va scoprendo qualcosa, cose di cultura, cose di vita, persone, oggetti. E in questo viaggio che lei ha fatto attraverso l'Italia seguendo le parole della Divina Commedia, che Italia ha incontrato Giulio Ferroni? Dall'Italia che lei voleva scoprire sui passi delle parole della Divina Commedia all'Italia di oggi, lei ha fatto questo viaggio se non sbaglio tra il 2014 e il 2016? Sì, sì, certo le distanze sono infinite, è chiaro che si trova di tutto, si trova una ricchezza di comportamenti, di forme del lavoro, di universi in cui c'è la radice del passato e c'è nello stesso tempo la modernità, c'è la lacerazione, ci sono le cose che non vanno, c'è il territorio maltrattato. Spesso non ho evitato di notare anche il fatto che in certi posti bellissimi uno trova pure l'immondizia qualche volta, quindi i nostri concittadini da una parte hanno una cura meravigliosa del loro ambiente, del loro territorio, dall'altra c'è qualcuno che invece lo gestisce male. E poi tra l'altro un'altra cosa interessante, la differenza ancora che c'è tra l'orizzonte cittadino delle città grandi e medie e il mondo della campagna, specialmente nelle zone un po' più marginali, affascinante è stato attraversare l'Appennino in certi posti e andare in certi posti dove magari si doveva pure procedere un po' a piedi, la varietà di situazioni, di orizzonti, un respiro che si sente, ci sono troppe cose per dire che cosa è poi l'Italia che è diventata, che ho visto e poi un'Italia luminosa, scintillante, tra l'altro nel 2015 sono capitato a Milano proprio mentre c'era l'Expo e quindi come non visitare l'Expo e quindi la perfetta organizzazione di questa esibizione della gastronomia mondiale, qualche cosa a cui oggi poi possiamo pensare in maniera anche ambigua, contraddittoria, lacerante con quello che ci sta succedendo, che sarà di noi? Forse anche questa domanda mi sorgirà sempre andando avanti, pensare al futuro, al futuro che non vedrò magari, ma che altri vedranno e che sarebbe bene andare ad affrontarlo conservando tutto il bene che si è accumulato nel corso dei secoli e che rischiamo di consumare e di distruggere e quello che ci sta avvenendo adesso ci mette in guardia proprio da questo. L'Italia è tante cose, infinite cose, ma è il mondo anche, non ho mai sentito che fosse anche nei posti dove magari c'era gente chiusa nel proprio orizzonte un po' così scostante, però non ho mai sentito che il nostro paese si presenta solo come orizzonte chiuso. L'Italia è stata sempre Europa, è stata sempre mondo e tanto più lo è e lo deve essere attualmente. Facciamo finta Giulio Ferroni che lei sia Dante in questo viaggio e chi era invece il suo Virgilio? Oppure i suoi Virgilio che l'hanno accompagnato? Chi era, l'ho sentito bene adesso. Chi era o chi sono stati le sue figure che hanno accompagnato come Dante aveva Virgilio? Chi era il suo Virgilio Giulio Ferroni? Il? Il suo Virgilio. Ah, ecco scusi, purtroppo adesso la voce la sento molto male. No, i Virgilio ce ne sono stati tanti, insomma, ecco devo dire, perché credo che uno che fa un viaggio di questo tipo, almeno come ho cercato di farlo io, si fa accompagnare da tutto quello che ha imparato nel corso della vita, quindi i libri sono stati tanti, gli autori tanti, riferimenti tanti. Qualche volta avevo però delle guide a cui sono affezionato dal punto di vista proprio, come dire, anche, sì, proprio tradizionale, affettivo, proprio, cioè le vecchie guide del Touring, la guida rossa del Touring Club italiano che è una guida tuttora formidabile, tutte le guide più belle che escono ancora nell'editoria, illustrate, bellissime, ma nessuna ci dà tutta la ricchezza di particolari del nostro paese. E poi anche c'era una guida telematica, appunto qualche volta mi è servito pure internet, sia Wikipedia che Google Maps, insomma, ecco, quindi ho usato tutte le guide possibili, non c'è stato nessun Virgilio, la mia vera guida era Dante poi in ultima analisi. Certo, è una passione sfrenata per fare anche questo, lo possiamo considerare, mi scusi, la comparazione, il suo, un giro di taglia in effetti, nel vero senso della parola. Sì, tra l'altro io amo molto il ciclismo, quindi mi sarebbe piaciuto farlo in bicicletta, ma naturalmente non ho mai avuto l'energia e tantomeno ce l'avrei adesso, però ecco quando ho pensato al Giro d'Italia e tante volte, infatti mi è venuto qualche battuta, per esempio quando sono stato sul Monte Carpegna, tra la Romagna e le Marche, non ho potuto non pensare al ciclista di Cesenatico, Marco Pantani che andava ad allenare, che viene da una città appunto che è marina e in pianura, però si andava ad allenare sempre su una delle montagne più vicine che è questo Monte Carpegna. Poi a Firenze sono capitati, percorrendo le strade lungo il fiume Ema, che è citato da tante, quindi sono stato anche non solo nelle città, ma anche tutti i punti fluviali che sono stati citati e sono passato però vicino Ponte a Ema, dove c'è il luogo Natale di Gino Bartali e c'è il museo di Gino Bartali, non potevo non pensare a questo e Bartali poi mi ha suscitato un ricordo personale di cui non parlo nel libro, però ne ho parlato in altre circostanze, di un incontro in treno con lui nei suoi ultimi anni, una bella conversazione, fu una cosa bellissima e poi Bartali mi fa sempre pensare alla canzone poi di Paolo Conte, Bartali, ecco vede, si mettono insieme tantissime cose, c'è la cultura, le opere d'arte, la storia. Un vero Zibaldone Giulio Ferroni, un vero Zibaldone. Sì sì certo, infatti qualcuno, credo ecco una bella recensione sul Corriere della Sera di Paolo Di Stefano ha usato proprio la parola Zibaldone. Abbiamo parlato di Napoli, siamo verso la chiusura, lei si è spinto fino in Piemonte a raccontare Dante, e dove e che Piemonte ha frequentato? Il Piemonte dice? Sì. Eh beh, lì ci sono tante cose, tra l'altro c'è, non si sa bene se Dante alluda di Piemonte, il Po è il fiume di cui lui parla moltissimo e parla delle sorgenti del Po, quindi il Monviso, e io sono andato alla sorgente del Po naturalmente, no? E allora ecco, non è stato veramente pure quello, è stata una cosa emozionante perché lì ho verificato, ecco una cosa che è verificata spesso in questo viaggio, l'opposizione tra l'orizzonte turistico e la persistenza di un'antica vita, lì ho incontrato un allevatore di mucche di alta montagna, che appunto mi ha parlato molto dei suoi problemi e di come per esempio l'eccesso di visitatori della montagna finisce per danneggiare non solo l'ambiente, ma proprio anche lo stesso allevamento delle mucche, ecco queste cose qui, un altro elemento di Baldone, no? Ma il ponte poi ha anche altri elementi storici affascinanti, mi hanno riportato per esempio alla vicenda di Fraddolcino e sono andato sulle montagne sopra Trivero dove si consumò l'ultima resistenza della setta di eretici guidati da questo Fraddolcino, assediati dal vescovo di Vercelli e poi dopo tutti a Biella sono stati, la sua compagna all'immargherita da Trento ha avuto il supplizio a Biella e lui a Novara, insomma cose tremende, insomma che c'è stato anche un passaggio nella città di Vercelli e sono tutte le tappe importanti di questo libro di Giulio Ferroni, libro intitolato L'Italia di Dante, viaggio nel paese della commedia. Brevemente Giulio Ferroni, in questo tempo sospeso che stiamo vivendo, in che modo la parola di Dante può risuonare nelle nostre coscienze? Ma io, tra l'altro risuonerà anche nel giorno del Dante Dì che sarà proprio domani, il 25 marzo, risuonerà in molti luoghi, ma credo che sia un'immagine proprio di serietà e di resistenza, di senso del lavoro, tra l'altro la parola di Dante è impregnata proprio di fisicità e anche di manualità, di senso della concretezza, è qualche cosa di cui abbiamo bisogno poi anche per ricostruirci dopo, per ricostruirci, in fondo direi qui la situazione è veramente grave, quindi dobbiamo ricostruirci come esseri civili italiani ed europei e dovremo farlo sentendo proprio un senso di solidarietà e di concretezza nel fare che dovrebbe farci superare quella insensata cura, per usare un termine dantesco, che ci ha portato spesso a dividerci su cose che non hanno nessuna corrispondenza con la durezza della realtà con cui dobbiamo confrontarci. Dante ci aiuta a confrontarsi con la resistenza e la difficoltà del reale, quindi può essere una grande lezione per quando dovremo riprendere con un impegno più difficile che in passato a costruire la nostra vita e a conservare questo paese per le nuove generazioni. Giulio Ferroni, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro, che cosa sta leggendo in questi giorni? Non lo so nemmeno io, perché ho vari libri, per esempio c'è un libro molto bello di uno scrittore spagnolo, Manuel Vilas, in tutto c'è stata bellezza, che praticamente è un libro che è autobiografico, che guarda alle vicende del mondo, della nostra vita in una chiave che vuole essere positiva nonostante tutte le lacerazioni di cui è fatto il presente, cercando appunto la bellezza dove c'è stata. Quindi noi abbiamo davanti un patrimonio in fondo di realtà nel nostro paese, poi non ne parliamo, di cose di cui non ci rendiamo conto, forse ce ne rendiamo conto di più adesso che ci mancano, che non possiamo attraversarle. Lo stiamo consumando, lo stiamo trattando male, l'abbiamo trattato male il nostro paese, è troppo. Adesso dopo questo che sta accadendo, adesso quando potremo riprendere a frequentarlo dobbiamo imparare a trattarlo meglio. Un libro come questo di Vilas ci insegna anche questo, credo. Manuel Vilas, in tutto c'è stata bellezza, potrebbe anche essere un titolo per il suo viaggio, titolarlo in tutto c'è stata bellezza, il libro che abbiamo raccontato insieme con Giulio Ferroni, l'autore, l'Italia di Dante, viaggio nel paese della commedia, la nave di Teseo. Grazie e buona serata Giulio Ferroni. Grazie e buona serata a voi.